bella ragazzi benvenuti in questo nuovo video del canale il secondo video ovviamente che faccio dove compro lo starter pack e l'ascia e il piccone che non mi ricordo il nome però si chiama si chiama ascia e beh non mi ricordo il nome compro il pacchetto laguna e arriviamo in questo video a 5 like e spero che questo video vi piaccia che lo sciopi cioè spero che il mio acquisto vi sia piaciuto anche dopo acquistato queste cose farò una partita con quelle tornerà mimetica dell'anno aspettiamo che si carichi prima cosa scrivetevi sotto nel canale schiacciando il tasto iscriviti e attivata la campanellina lasciate un bellissimo like per supportare questo canale che piano piano sta crescendo e di condividere questo video con tutti i vostri amici i diti di iscriversi mi raccomando scusate adesso entriamo cesso in corso faccio una o due partite dipende quanto due video vi dico la mia prima partita del giorno quindi devo riscaldarmi ok forse mi ci può anche un ballo da 200 arco esplosivo ok raga partiamo con l'acquisto acquista spero che si vede l'acquisto come vedete io ho 5 euro e 0,5 euro un centesimo che ho caricato adesso ho di noi paga torno all'applicazione ok nostro acquisto è stato effettuato bella piace figo vai vediamo la skin il suo steam palata ananas ok raga ah poi anche la sua ananas che non mi piace ok raga ok raga come avevo borchiata 1 2 3 acquistata e anche questo oggetto acquistata guarda com'è bello qua mettiamola mi hanno detto che la non è più figa vai mettiamo questo compiamo anche questo no aspetta 1 2 3 4 arrivo a 600 vbac quindi me li tengo va andiamo faccio una bella singola con questi nuovi oggetti ah spero che questi teo già con queste due robe che ho preso mi piacciono per me tantissima ascia borchiata e da tanta che la voleva perché lo usano tutti quelli forti facciamo questa partita un'altra poi quindi concludo il video ok aspettiamo che si carichi non sapevo che questa skin era blu perché tutte quelle che prendevano viola quindi è l'unica skin blu che ho nella magiette perché anche bella come skin devo dire aspettate un momento di lag come sempre ci sta dai scendiamo a palmetto ok e raga il piccone e lo skin e lo zaino bellissime e poi la mimetica non è che mi piace tantissimo eh cioè non mi piace proprio il piccone da quando l'ho preso un mio amico lo voglio fare cioè lo voglio da quando è uscito madonna da quando mi hanno fatto vedere il mio amico che è fantastica è silenzioso come un piccone quando fa almeno ti sento nemici quindi è un ottimo piccone per far male perché poi è bello vedere in mano se la vinciamo questo quindi si conclude il video eh ve lo dico se il video non sarà lungo no non c'è nessuno non c'è veramente nessuno va io non è che voglio prolungare il video quindi vado a pushare vado a cercare la gente perché se la sentite guarda non fa neanche rumore cioè fa rumore ma pianissimo e questo è bello di sal il disco piccone vediamo oh no 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 va via questo via questo via questo va andiamo non c'è te rega che ci sono un po' innauzione che sono un po' innauzione non ho un po' Minchia! Madonna! Non aventavamo ancora una hit! Vabbè, la mia prima partita del giorno devo ancora riscaldarmi! Vai in giro! Vediamo se c'è gente! Ok! Forte! Spero che ha fatto un errore! Ok! 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 E' un sacco. eh vedi? va? dimmi te facciamo i chug, i chug, i chug, i chug però sempre in mancanza di maz, quello non manca mai prendiamo la metaglia B90 andiamo, due kill in 27 siamo, benissimo allora fermiamo un po' così nel prossimo fight siamo già a posto per il fight abbiamo un po' di masso in più ok andiamo a cercare gente, mazzi ne ho abbastanza andiamo a cercare il player ok 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 non so dove, non so perché non è uscito oia il 22 sta safe, benissimo, gigantesco cioè piccolissimo e siamo in 22 in 22, madonna, cioè è tanto eh raga cioè per essere così in 22 sta safe è tanto eh un buon scarto come in 22 sta 20 siamo adesso adesso Ocuna teatro davanti Vediamo dov'è Una si sono due, sarà forte Questa è una del season 2, è molto bene No, mi sono in picio Ucciso Madonna Mi è salita l'ansia per due secondi, raga Mi so che questo qua era bravissimo e mi uccideva Era bravo, però Non si muoveva tanto veloce Nel senso che Cioè non sapevo neanche che era andato via da lì E quindi Non posso di soffiare Potevo cerchinarlo Solo che si muoveva troppo, quindi No Quello era Era morto Lo beccavo No No No, no Regà, regà È dall'altra parte Madonna Non ci ho andato Poi c'è anche la safe Poi c'è quella Che mi cecchina Però Il colpo non lo piglio Mannaggia No No, regà Qua sono morto Perchè Ce ne sarà uno che è di fianco a me Quello la che mi cecchina E quindi sono No Sono morto praticamente Mmm E qui devi pensare veloce Devi pensare Ho pusci sto qua Il mio bene cazzo Il mio bene cazzo Tira fuori la testolina No Così manca No, mi hai rotto il cazzo va Minchia Di là ci sono le cure cazzo Minchia Non ci sono nessuna scuola cazzo Eh? Adesso ti devi muovere Non puoi stare lì per sé Eh da dietro Ma andò Ma? Vabbè 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 regà Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E Schiacciate la campanina Per non perdere i miei video E le mie live E condividete la live con i vostri amici Alla prossima Ciao